Ciao io sono Lucio e questo è Ombro in Diary. Qualche tempo fa ho inaugurato il nuovo impianto Only One. Se non sai di cosa parlo ti lascio il link in descrizione e probabilmente non sei iscritto al canale e ti consiglio di farlo così non perdi i prossimi aggiornamenti. Comunque ho fatto già qualche cotta e ho ancora qualche problemino nel tarare l'efficienza e i litri finali di birra prodotta. Quindi oggi parlerò di come ho tarato il mio impianto in modo da non avere più questi problemi. Questa volta ho fatto una cotta di prova con una strong bitter. Non parlerò molto della ricetta perché più che altro vorrei concentrarmi su come ho ottenuto i vari volumi di acqua e di grani per arrivare a un'efficienza e a un volume di birra finita ottimale. Poi questi valori li userò su Brewfather o sul foglio Excel che uso di solito e ovviamente la birra anche se l'ho usata come ricetta solo per tarare l'impianto la berrò lo stesso. Per la taratura partirei dalle grandezze che conosco. Prima di tarare l'impianto utilizzavo un'efficienza del birrificio del 66% perché parte delle mie cotte se ne andava in perdite soprattutto in trab nel momento del travaso dalla pentola di boil al fermentatore. Ho deciso quindi di aggiungere questo litro e mezzo circa di perdite all'interno dei volumi che sto calcolando ma in un modo più particolare perché non li aggiungo solo come acqua ma li compenso con degli zuccheri fermentabili. In questo modo invece che diluire semplicemente il mosto aggiungendo solo acqua aggiungo semplicemente nuovo mosto e mi ritrovo con la quantità esatta di birra che volevo produrre alla densità esatta. Questo a fronte di una spesa minima di aggiunta di grani che devono solo compensare un litro in più di mosto ma un guadagno dell'efficienza del birrificio che mi porta ad avere una quantità esatta e un'efficienza un po' più alta. Quindi considerata l'efficienza del birrificio e di conseguenza anche l'efficienza di estrazione in mesh potrei dedicarmi a calcolare la quantità di grani da utilizzare e dopo di quella potrei calcolare quanta acqua assorbono i grani ma ho preferito fare il percorso a ritroso partendo dal fine del processo di birrificazione. Partiamo quindi dai volumi freddi. Ho misurato quanti litri di mosto avevo nel fermentatore che nel mio caso erano 10 litri e poi ho misurato quanti litri persi in trab che nel mio caso erano circa un litro e 65 almeno per questa cotta. Ho poi sommato questi due valori quindi 10 più 1 e 65 li ho moltiplicati per 1,04 che è il fattore che mi riporta al volume caldo a causa della contrazione termica il volume freddo si restringe e quindi per dilatarlo ho utilizzato un 4 per cento come fattore di dilatazione e ho in questo modo il volume finale dopo la bollitura chiamiamolo volume post boil. Siamo quindi ai volumi caldi decisamente caldi visto che evaporano. Per il prossimo valore che ho calcolato che è quello appunto del coefficiente di evaporazione ho misurato il volume pre boil quindi il volume quando iniziavo la bollitura. Mi è poi stato sufficiente fare il calcolo 1 meno volume finale quindi volume post boil fratto volume iniziale che era il volume pre boil per cento per ottenere la percentuale di evaporazione di mosto oraria quindi il coefficiente di evaporazione oraria che nel mio caso era il 30 per cento plausibile perché nel mio caso ho fatto una bollitura vicino a una finestra che aveva molto tiraggio quindi vedevo il vapore che se ne andava molto velocemente e quindi c'è stata un'evaporazione molto alta. Per avere una stima in anticipo dell'evaporazione oraria si potrebbe anche fare una bollitura di prova chiamiamola così con 10 o 15 litri d'acqua infatti ad evaporare durante la bollitura non è il mosto ma è l'acqua che compone il mosto gli zuccheri non evaporano infatti durante le bolliture prolungate il mosto si concentra diventa più zuccherino e cala di volume perché è proprio l'acqua ad essere evaporata quindi facendo l'esperimento con l'acqua basterà misurare il volume iniziale e il volume alla fine della bollitura e far andare ad esempio per un'ora o per mezz'ora la bollitura e poi moltiplicare il coefficiente per due e ottenere comunque il coefficiente di evaporazione. Io per il mio impianto non ho fatto tutto questo ho lasciato andare e mi sono basato su stime che avevo fatto precedentemente e più o meno diciamo che me la sono cavata. Per i volumi invece della prima parte della cotta quella di mesh sparge ho iniziato le misure dopo la parte di sparging infatti sapevo a priori tutti i volumi iniziali avevo definito a priori il rapporto acqua grani da 3 litri al chilo e sapevo quanti chili di malto stavo utilizzando. Per lo sparge mi sono basato su una stima fatta nella cotta precedente quindi ho usato circa 5,6 litri di acqua e avevo in più un dead space misurato di 3 litri sul fondo della pentola. Quindi per le misure fatte dopo lo sparging appena ho iniziato a mandare la bollitura ho lasciato il cestello che utilizzavo per raccogliere i grani a scolare in parte. In questo modo ho raccolto 0,3 litri di mosto. Ho anche misurato la densità che era di 1,030 quindi poteva essere anche mosto recuperabile ma l'ho usato come misura così come valore standard per capire quante perdite avevo. Quindi per ottenere il coefficiente di assorbimento dei grani quindi quanta acqua assorbono i grani durante il mesh che è acqua che va persa basterebbe sommare i volumi in entrata quindi il volume dell'acqua di mesh e il volume dell'acqua di sparge aggiungerci il volume dell'acqua persa e togliere il volume che si è salvato che va in bollitura quindi il volume preboil. Fatto ciò basterà dividere per la quantità di grani utilizzati e si ottiene quindi il coefficiente che nel mio caso era di 0,3 litri al chilo anche se sembra dipendere dal tipo di grist che si vuole fare infatti utilizzando più fiocchi o utilizzando cereali macinati diversamente si rischia di avere un coefficiente più alto. Nel mio caso ho utilizzato semplicemente malto base e qualche speciale ma il coefficiente di assorbimento è abbastanza basso in più sembra che per le pentole only one questo coefficiente non superi mai il valore di un litro al chilo tranne in casi particolari e se avete casi in cui supera un litro al chilo ditemelo nei commenti che vorrei proprio saperlo. Comunque nella cotta precedente avevo impostato questo coefficiente a 1,8 litri al chilo e mi sono ritrovato con un mosto molto più diluito quindi con una densità molto più bassa del previsto e ho dovuto prolungare la bollitura per riconcentrarlo. Poco male. Per stavolta non ho utilizzato cereali che assorbissero molto per le prossime volte mi affiderò al caso. A cose fatte dopo il mesh ho ottenuto un'efficienza di estrazione del 77 per cento calcolata come densità misurata del mosto per i litri preboil misurati diviso la densità impostata inizialmente per i litri desiderati o attesi. Mi preferisco dover aggiungere dell'acqua a fine mesh o a fine bollitura piuttosto che trovarmi con densità più basse e inserire dell'estratto. Entrambe le vie sono percorribili ma preferisco la prima che è anche molto più veloce e soprattutto a fine bollitura facilita il raffreddamento. Basterebbe inserire una bottiglia d'acqua bella fredda che durante le gotte tengo sempre in frigorifero o in congelatore in modo da essere pronto anche se devo dire non mi è servita quasi mai. Un'altra cosa da considerare potrebbe essere l'assorbimento di mosto da parte del luppolo in bollitura. Io non l'ho considerato diciamo che l'ho ricompreso nella parte di trab perso in bollitura perché uso principalmente luppoli in pellet anzi solo luppoli in pellet che assorbono poco o niente e si sciolgono e me li trovo tutti sul fondo della pentola quindi l'assorbimento da parte dei luppoli è pressoché nullo. Quindi riassumendo per fortuna sono riuscito a misurare o calcolare tutti i valori di cui avevo bisogno e che poi inserirò su brewfather o su altri programmi di calcolo oltre che nel mio excel. Su brewfather ho anche fatto una cotta di prova dopo aver impostato il mio nuovo impianto con questi valori. Per fortuna è venuto come mi aspettavo quindi non ci sono grandi discrepanze tra l'atteso e il misurato quindi è andata bene speriamo altrimenti mi toccava fare un'altra cotta di prova ricominciare rifare un'altra ricetta ripulire il pavimento no per fortuna è andata bene. Una cosa che mi ha piacevolmente sorpreso di questo impianto è che ha pochissime perdite in mesh quindi in totale quello 0,3 litri che comunque sarebbero stati recuperabili e nessuna perdita nella pompa ovviamente quelle sul pavimento sono perdite che non si possono evitare quindi questa cosa è molto sorprendente permette di ottimizzare un po i volumi mi è piaciuta ma per minimizzare ulteriormente le perdite si potrebbe usare un filtro applicato sul sifone quando si fa il travaso dalla pentola di bollitura al fermentatore in modo da filtrare ulteriormente il trap e riuscire a tirare su anche una parte di quel trap che non ha dentro troppe schifezze sicuramente non viene mosto limpido e cristallino ma si riesce a recuperare qualcosina. Un punto che mi ha un po impensierito e di cui stavamo parlando nei commenti del video precedente è quello del mantenere una bollitura vigorosa e far partire comunque il timer infatti occorre portare la pentola a più di 100 gradi il trucchetto effettivamente è proprio quello di far arrivare la pentola alla bollitura nel mio caso è iniziato a bollire a 99 gradi e appena la pentola arriva a quella temperatura e quindi il timer parte si può agire cliccando sul tasto della temperatura per aumentarlo fino a 100 102 in modo che la bollitura continui vigorosa e il timer continui a scalare il tempo. L'operazione è molto semplice e effettivamente basta tenere d'occhio per pochi minuti al momento della bollitura il timer e il mosto e quindi si perde veramente poco tempo durante l'economia della cotta che di solito dura dalle tre ore in su. E questo è tutto se il video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e alla prossima. Tra l'altro questo potrebbe essere l'ultimo video di quest'anno quindi buone feste a tutti!